ciao a tutti oggi vi faccio un video parlando dei profumi più maschili che ho un po di tempo fa un ragazzo nei commenti mi ha scritto se avessi avuto se ho e se ho mai provato e se erano soprattutto nel mio genere dei profumi maschili si chiama luca il ragazzo che mi ha scritto questo messaggio quindi ho deciso di fare questo video per lui perché mi aveva appunto dato il là per parlare di queste fragranze e un po per tutti voi per raccontarvele allora la mia risposta quando è stata questa domanda è stata sì ho avuto dei profumi soprattutto uno che è quello che mi è piaciuto maggiormente di cui come vi ho già detto in altri video prima non avevo questa cultura di tenere le boccette di tenere le scatole di collezionarle anche quando sono finite quindi avevo buttato via tutto ho però ritrovato di recente in un mercati recente circa l'anno scorso in un mercatino un campioncino che è di questo profumo che è fendi che è stato lanciato sul mercato nel 1988 e il profumo si presentava in una boccetta che era simile a questa questo è un 5 ml era nera mosaicata ai lati e ricorda un po questa il profumo mi è sempre piaciuto è buonissimo mi sono scritto un po di informazioni viene catalogata come una fragranza legnosa speziata cuoiata e aromatica note di testa sono il coriandolo la maggiorana l'angelica il bergamotto la lavanda il limone nel cuore troviamo il garofano la cannella il cipresso l'iris il ciclamino la rosa il gelsomino e nel fondo il cuoio il vetivè paciuli ambra cedro cocco vaniglia e muschio è un profumo molto ricco è un profumo molto ricco è un profumo inebriante è un profumo molto forte io ci sento tantissimo queste note cuoiate il vetivè il cedro le sento tantissimo il bergamotto li sento tantissimo era un profumo che mi è piaciuto tantissimo molto forte molto persistente era forse uno di quei profumi che l'ho apprezzato il giorno dopo rispetto che il giorno prima soprattutto sugli indumenti perché all'inizio è molto forte ricorda un po quelle acque di colonia quei dopo barba da uomo proprio maturo molto forti e mentre il giorno dopo un po più tenue veramente eccezionale questo profumo non l'ho più comprato perché all'epoca io l'avevo trovato in un in un negozio che stava facendo delle svendite e l'avevo veramente pagato pochissimo avevo anche il suo deodorante spray che io lo usavo come profumo il deodorante spray per quanto era forte e persistente e non l'ho più trovato e adesso andare a cercarlo ha sempre dei prezzi altissimi e poi non l'ho più non l'ho più veramente visto in commercio comunque era veramente un profumo che merita tantissimo ottimo 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 questo è da uomo maturo da uomo adulto ma secondo me anche su di me che ero comunque un ragazzo che sono un ragazzo andava benissimo molto molto buono poi un altro profumo sempre sulla sullo stesso filone di questo è il profumo di cappucci cappucci puron è un 100 ml uno de toilette questo mi era stato regalato circa due tre anni fa per natale da acqua e sapone perché mi ricordo la confezione e quello per intenderci che ha la scatola marrone è anche lui una fragranza agrumata aromatica terrosa cuoiata ed è stato lanciato sul mercato nel 67 ho visto che ho letto mi sono informato e ho visto che ci sono state delle riformulazioni quindi questo non è più insomma diciamo come l'originale l'avranno un po più addolcito un po alleggerito nel in testa troviamo limone di amalfi lime bergamotto anice e basilico nel cuore troviamo lavanda gelsomino ciclamino note fruttate nel fondo muschio di quercia tabacco cuoio muschio incenso paciuli ambra io ci sento tantissimo la nota del tabacco ci sento tanto l'incenso ci sento tantissimo le note del lime e del limone soprattutto in apertura anche il bergamotto la lavanda è un profumo veramente buono è un profumo che sa di pulito che quando lo metto mi sento in ordine anche questo per una platea di uomini maturi cioè non il classico ragazzino di 20 anni a parte che non gli possa piacere questa profumazione veramente buona sa proprio di pulito di freschezza ti dà questa anche una sicurezza quando lo indossi mi piace sempre annusarlo questo profumo infatti è quasi finito penso che lo ricomprerò quando l'avrò finito anche perché è un profumo che lo costo mi sembra che costa c'è la confezione d'acqua e sapone con profumo e forse bagno schiuma o dopo barba non mi ricordo ma costa sui 18 20 euro e fa veramente la sua figura questo profumo un profumo persistente è un profumo che lascia la scia insomma che si fa notare ottimo 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 ricorda un po' quei profumi mi ricorda un po' una una seduta in pelle un uomo che fuma un sigaro ecco un po' retro vintage però comunque attuale anche da per adesso ci sta mi piace perché non lo potete sentire dal dal telefono ma è veramente buono ottimo e se vi capita di andare da acqua e sapone provatelo io a mio papà di questa linea avevo regalato l'homme l'homme soave soave mi sembra che ricorda il sauvage di dior ed era fatto bene anche quello gli avevo regalato il cofanetto che c'era profumo e deodorante buono buono questo è il mio preferito di tutti perché ce ne sono diversi c'è blu azzurro liquido blu liquido azzurro liquido nero che era appunto l'ispirazione al sauvage di dior è questo qua di scatola marrone liquido ambrato ottimo provatelo se vi capita poi terzo profumo di cui ho trovato veramente poche informazioni mi è stato regalato a natale circa un 4 5 anni fa è un eau de parfum ed è un profumo che è stato creato insomma da profumieri arabi si chiama lord è un profumo anche questo che è sulle note degli altri due lo un po più dolce questo però anche lui molto agrumato aromatico balsamico e ci sento delle note di cedro qua dentro cedro un po anche orientaleggiante un incenso ho trovato veramente niente su internet a parte le varie fotografie è comunque un profumo super low cost perché ho visto i prezzi costa all'incirca 6 euro il 50 ml ed è un eau de parfum e anche questo buono rispetto al fendi al cappucci mi piace meno infatti ce n'è ancora abbastanza l'ho usato meno rispetto agli altri due però comunque buono devo dire che ha una buona persistenza una buona scia una buona intensità anche lui e proprio non ha niente da invidiare a profumi più costosi questo è stato un regalo apprezzato anche lui e rispetto agli altri due questo mi dà meno l'aria da uomo maturo lo potrebbe tranquillamente usare anche un ragazzo più giovane perché è più è più talcato e più fresco è un po più dolciastro rispetto agli altri due gli altri due sono un po più pungenti comunque i migliori che ho avuto e che ricordano questa categoria di profumi mascolini i maschili sono questi due questo penso che lo ricomprerò questo purtroppo mi accontento di avere il campioncino che ho trovato e lo tengo nella mia collezione e nonostante abbia penso un po di anni questo campioncino sia stato aperto perché come vedete è stato usato non si sente l'alcol ma si sente ancora la fragranza originaria questo è stato un regalo super apprezzato che penso che ricomprerò perché mi piace veramente tanto 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 io vi ho detto tutto luca spero di essere stato esaustivo in questo in questo video vi auguro una buona serata grazie come sempre a tutti per seguirmi e ciao a tutti